Novità nel Consiglio Comunale di Monopoli. Difficile minare la stabilità dell'amministrazione romani, ma ciò non toglie che presto ci potrebbero essere avvicendamenti. Il passaggio in Consiglio regionale di Giovanni Copertino, storico ex Presidente della Regione, che subentra al consigliere Antonio Camporeale, deceduto a dicembre, apre nuovi scenari in città e riapre la corsa agli assessorati. Copertino, assessore comunale dell'attuazione del programma, dovrebbe tra qualche giorno lasciare il mandato nelle mani del sindaco, aprendo di fatto un tavolo politico tra i partiti. L'argomento principale è l'assegnazione di due assessorati. L'attuazione del programma, che acquista grande valore se dovesse essere affiancata, a qualche delega forte, magari commercio, turismo, pesca ed agricoltura, che sono state affidate a Giuseppe Campanelli e la delega al benessere, tra i papabili, il consigliere comunale Carmela Paolangelo di Patto per la Città, della stessa lista civica di Campanelli, ed Ornella Penta, della lista civica impegno per Monopoli. La Penta non ha mai nascosto l'interesse, mentre la Paolangelo è alla ricerca della delega allo sport, bramata anche da altri giovani consiglieri. L'Udc non dovrebbe avanzare richieste in quanto ha tre assessorati ed un consigliere provinciale, mentre Forza Italia ha il sindaco, la presidenza, due consiglieri delegati ed un assessore. Patto per la città ha solo un superassessorato. A bocca asciutta al momento restano NCD, l'opposizione all'interno della maggioranza, e la lista civica, la voce dell'agente del consigliere comunale Cristian Iaia. Le prossime mosse saranno necessarie per capire quale assetto intende dare il sindaco, in vista delle elezioni regionali e della sua eventuale candidatura. L'elezione di Romani riaprirebbe a Monopoli il totosindaco, e già si fanno i nomi di Rosanna Perricci, Stefano Lacatena, Sergio Maraciulo, Aldo Zazzera ed Antonio Rotondo.